23 marzo martedì della quinta settimana di quaresima lettura del vangelo secondo giovanni in quel tempo il signore gesù diceva sui discepoli le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita ma tra voi vi sono alcuni che non credono gesù infatti sapeva che fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito e diceva per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal padre da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andarono più da lui disse allora gesù e dodici volete andarvene anche voi gli rispose simon pietro signore a chi andremo due parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di dio gesù riprese non sono forse io che ho scelto voi i dodici eppure uno di voi è un diavolo parlava di giuda figlio di simone iscariota costo infatti stava per tradirlo ed era uno dei dodici volete andarvene anche voi sono queste le parole che gesù rivolge ai dodici apostoli dagli scelti dopo che gli altri discepoli se ne erano andati questa domanda riguarda ognuno di noi sì gesù ha svelato chi è il figlio di dio fatto uomo si propone come via verità e vita dono a tutto se stesso senza compromessi per questo si propone al nostro cuore alla nostra intelligenza alla nostra libertà seguire cristo avere fede in lui è dono e concessione di dio la fede esalta la dimensione dell'uomo richiede la consapevolezza di sé e l'adesione a tale grande dono è un percorso quotidiano di grande impegno serietà e umiltà seguire cristo fa emergere in noi la dipendenza da dio e la sua indispensabile misericordia che sorregge il nostro vivere quotidiano riconoscere questo ci avvicina dio in caso contrario se pensiamo che tutto dipende solo ed esclusivamente da noi dalla nostra bravura dal nostro sforzo allora abbiamo già intrapreso la strada dell'allontanamento da cristo abbiamo risposto alla domanda stiamo andando via